e puntatone sono sempre contenuti micidiali quelli quando misuriamo la nostra vita con il metro Mirko Nicolino ma oggi mi sono messo qua bello al fresco pronto sereno riposato perché tutti quanti insieme gli dobbiamo cantare happy birthday to you buon compleanno Mirko grazie 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 Claudio e grazie ovviamente a tutti quelli che seguono il canale perché ovviamente sono il nostro supporto principale no quindi di cavartela così tu è il giorno dell'anno anno tu ti aspetti un regalo da giuntoli ma devi fare un regalo ai nostri seguaci no io mi aspettavo che facessero loro il regalo io andavo subito invece no ah no ok no perché tu sei una delle nostre primarie fonte di informazione quindi ti tolgo subito dalla non dico dall'imbarazzo però insomma sono due giorni che diciamo di questa visita medica allora se vuoi rivelare retroscena divertente di quello che è successo al G Medical o al G Hotel insomma oggi ci aspettavamo Gonzales sì diciamo che eh quando sono state programmate le visite mediche che di di Pier Calulu eh la Juventus aveva anche inserito uno slot per oggi eh di visite mediche per eh un nuovo calciatore eh tant'è che anche al G Hotel era previsto un un arrivo questo arrivo ancora non c'è stato sarebbe dovuto essere più Nico che Cup Miners perché perché eh Nico Gonzales non era stato convocato per la partita del giovedì di Conference League dalla Fiorentina eh ma questa chiusura ancora non c'è la volontà del giocatore di trasferirsi alla Juventus c'è anche la disponibilità generale della dirigenza della Fiorentina in primis da parte del direttore sportivo Prade che tra l'altro vorrebbe dei giocatori della Juventus su tutti i costi scusa ci aiuti a capire questa cosa perché io sto impazzendo oramai di giorno in giorno uno mette trenta sembra che i giornali siano messi d'accordo no? Sai come funziona con le veline in genere allora siccome ce l'abbiamo tutti uguale tu un giorno metti trenta io trentadue il giorno dopo sono io che metto trenta tu metti trentadue aggiungiamo allora venti venticinque se c'è costi non ci si sta capendo più niente e poi dall'altra parte c'è il muro commesso di quaranta dove sta la verità delle cifre approfitto per dire da casa che siccome oggi è il compleanno di Mirko e noi non abbiamo i fuochi d'artificio se ha difetti speciali no potrebbe essere magari o io e lui sembriamo frizzati ma è perché è il regalo psichedelico di complesso allora intanto cominciamo col dire che è normale che se tu sei nella necessità di dover prendere per forza un calciatore e l'altra società non è obbligata a vendere con il passare dei giorni soprattutto quando arrivano gli ultimi giorni di mercato chi vende può anche fare la voce grossa anche perché Nico Gonzales non è in scadenza di contratto quindi la Fiorentina non ha tutta questa urgenza di venderlo e commesso in questa in questa sede sta provando a fare la la voce grossa sappiamo come funziona no quando c'è da tenere buono una piazza nei confronti di un avversario o un tra virgolette nemico a cui però poi alla fine hai sempre dato i giocatori che ti chiedevano perché comunque non puzzano diciamo così non puzzano te l'hanno sempre ben pagati quindi ora il nodo è commesso vorrebbe qualcosina in più rispetto ai 30 32 eh che erano che era la cifra iniziale e vorrebbe una cessione direttamente a titolo definitivo Pradè e gli altri eh della Fiorentina sarebbero disponibili ad una formula più eh conveniente tra virgolette per la Juventus eh anche perché ripeto c'è anche parallelamente la trattativa per Kostic eh io penso che alla fine possiamo sintotizzare Mirko dicendo che io considero Kostic tra i sette i dieci milioni vuoi fare otto vuoi fare sette vuoi fare esatto anche perché che venticinque cash più Kostic si fa direi di sì anche perché Kostic in questo momento pesa a bilancio per la Juventus sette virgolette sette milioni e diciamo che con otto la Juve non ci fa minus valenza quindi sarebbe una valutazione ritenuta congrua ecco usiamo questo termine quando ce lo pigliamo sto Spidi Gonzales martedì mercoledì io spero io allora sono previsti nuovi contatti in questo fine settimana io spero che lo spero per Motta tra l'altro anche perché già col Verona ce ne mancano ci mancano tre giocatori Miretti è stato ceduto proprio in queste ore in prestito al Genoa e quindi eh comincia ad essere difficoltoso anche fare la formazione quindi spero spero per Tiago Motta che lo abbia per Roma quindi inizio settimana prossima e quindi guarda che incastro quindi Spidi ce lo portiamo a casa Motta, Fiorentina, Juve, Gonzales, Ken che gliel'abbiamo dato a 13 più 5 di bonus che gli ha segnato il 3 a 3 in casa contro una squadra impronunciabile di Conference League arriviamo al vecchio Bologna Mirko fanno l'intervista sul Corriere dello Spot al giocatore del Bologna olandese che dice no intanto dice che è il rigore dell'anno scorso è quel rigore su un doje però vabbè dai oramai acqua passata sono venuti a spiegare se ne erano altri due per la Juve ma un domani la prossima io lo dico ai colleghi allora la prossima settimana quando fate l'intervista a Motta gli dovreste chiedere scusi si ricorda l'anno scorso il famoso on doje si ricorda che c'era anche un rigore su chiesa così magari qualcuno una volta fa la domanda anche a un nostro tesserato e magari si sente rispondere ma di che cosa state parlando ma quel che interessa a noi di Beuchemann non è questa sciocchezza qua che gli è venuta in mente ma quando dice so che Copminers vuole andare alla Juve io però finché sono tesserato di una squadra gioco mi alleno si si però dice tra l'altro che non vuole giudicare nessuno però intanto dice se fossi stato io mi sarei allenato due cose gli hanno fatto dire a Beuchemann del Bologna che c'entra con l'intervista sul Bologna due cose che c'era il rigore del Bologna con la Juve e che con Manes che deve andare alla Juve praticamente non fa il professionista questo gli ha tirato si offende qualcuno se diciamo che questa intervista senza queste due domande di questa intervista non avrebbe parlato nessuno ok diciamolo diciamolo e andiamo avanti allora andiamo avanti e andiamo su Copminers dai andiamo su Copminers che continua a inviare certificati medici all'Atalanta per non allenarsi se ce li ha se è depresso sono a fare i suoi scusa sono sono problemi suoi scusami ho già litigato oggi ho già specificato oggi perché quando è troppo è troppo scusate tutti ma io sono un lavoratore anche se sono un calciatore sono un lavoratore ho la mia privacy quindi scrivere su un giornale che certificato ha portato un calciatore la trovo una cosa abbastanza vergognosa perché dire che certificato ha portato un calciatore cosa c'è scritto dentro è una roba da privacy direi che non è opportuno non è opportuno non sarebbe opportuno dopo di che andiamo al muro contro muro di Copminers che vuole la Juve che ha avuto una promessa vero dall'Atalanta perché ho potuto discutere anche questo io stamattina l'ha avuta nostra promessa l'anno scorso non ne parla più nessuno perché quando a marzo quando a marzo Copminers dal ritiro dell'Olanda disse ho già informato l'Atalanta che per un'offerta congrua io cambierò maglia nessuno ha smentito né per Cassi né Gasperini allora nessuno ha smentito questa versione però tutti si affrettano a dire che ha campionato in corso alla vigilia di partite importanti non si trattano i giocatori però intanto l'Atalanta sta comprando giocatori alla vigilia di una partita ha preso al Torino un giocatore che altrimenti domani avrebbe giocato col Torino e allora e quando c'era il caso quando c'era Papugones chi è che l'ha spedito fuori dalla rosa ha capiato il corso ma forse Gasperini ricordo bene e allora come sono le cose com'è che il racconto mediatico è la Juve cattivona e gli altri poverini come funziona? senti diciamo una cosa però Mirko perdonami oggi è il tuo compleanno puoi dire quello che ti pare dai possiamo dire tutto ma se all'ultimo giorno per capire che facciamo tipo la PEC di mezzanotte il 30 agosto ma se all'ultimo giorno poi Combiners non arrivasse la Juve sta così la Juve sta così ma ci sono già pronte le truppe camellate dei commenti a dire che è un fallimento lo so è vero avrebbero ragione allora oggi 23 agosto possiamo assolutamente dire che per quelle che erano le premesse in questo momento il mercato non sta andando per come avevamo programmato per come avevamo previsto perché l'obiettivo era di cedere bene quelli che non erano ritenuti congrui al progetto e tutto sommato sono stati venduti bene e però poi dovevano esserci delle entrate che come dicevo prima servono a motta il centrocampo è stato sistemato benissimo però gli esterni con Chiesa Fuorirosa adesso comincia ad essere un problema adesso cominciano ad essere un problema anche perché mi pare di capire e parliamo dei soliti Consensao Junior e Galeno e qualcuno ancora Consensao è stato reintegrato dal porto Consensao Fuorirosa è stato reintegrato certo è sancio che comunque però sono tutte operazioni che se non riesci a strapparle in prestito non si fanno e alla fine torno a quello che dicevamo nelle scorse settimane evidentemente se la Juventus questi non riuscirà a prenderli dovrà rinviare ogni discorso alle prossime sessioni di mercato e in questa si farà con quello che c'è e la situazione è questa qui non se ne esce scusa ma secondo la tua esperienza e anche le tue conoscenze della Juventus e del suo mercato cioè è apparenza questa seranità che mostra Tiago Motta quando risponde alle domande sul mercato sono in sintonia con il direttore stiamo lavorando bene per fare la Juve competitiva cioè tradotto se alla fine del mercato non gli arriva con mano e si arrabbia o fa orecchie da mercato allora ovvio ovvio che Motta sapesse delle difficoltà che avrebbe avuto la Juventus e che aveva perché comunque il piano industriale gli è stato presentato il piano è quello di cercare di avvicinarsi al pareggio del bilancio il 30 giugno 2026 e quindi quando ti dicono guarda abbiamo un rosso da 200 milioni e in due stagioni lo dobbiamo azzerare è ovvio che tu sai di andare incontro a delle difficoltà però siccome ci sono state delle cessioni e siccome erano state garantite che nonostante queste difficoltà alcuni obiettivi sarebbero stati centrati secondo me un po' di malumore lo avrà dobbiamo essere onesti e senti McKenna parte di cui mentre noi stiamo registrando aspettiamo McKenna ha già firmato il rinno esatto 2026 manca solo la comunicazione mentre stiamo registrando circa 2 milioni e mezzo e allora prende i soldi di prima tutto questo show e alla fine ha dovuto prendere i soldi di prima quindi alla fine tutti si sistemano tranne uno Chiesa o va al Barcellona? tranne Chiesa tranne Chiesa con cui il Barcellona ha avuto dei contatti ma anche lì il Barcellona ha una situazione molto complicata perché ad esempio ha dei giocatori che ha già comprato ma non può tesserare fin quando non libera risorse per quelle che sono le regole della Liga Spagnola ricordiamo che il Barcellona ha 3 miliardi di euro di debiti quanti? 3 miliardi di euro di debiti ma allora i nostri 200 milioni sono delle noccioline cosa sono? sono noccioline però c'è una differenza che la Juventus nel caso viene penalizzata i rappresentanti della Catalogna non vengono ovviamente toccati non vengono toccati lì gli viene detto vabbè fate rescindete un po' di contratti hai visto come hanno fatto l'anno scorso non è scisso a un certo punto non riuscivano a liberare risorse e hanno liberato cartellini a zero Gundo Ganore è andato praticamente a zero al Manchester City addirittura l'altro giorno stavano per mettere fuori rosa pur di tesserare per una partita Dani Olmo stavano per mettere fuori rosa De Jong cioè per farvi capire il caos e le difficoltà che ha quindi io mi chiedo ma scusa ma mentre gli diamo chiesa non possiamo prenderne noi uno di questi fuori rosa intanto questo non lo so a me Ferran Torres ad esempio piace tantissimo anche a me a me ad esempio Ferran Torres piace tantissimo no volevo dire una cosa perché alla fine intanto chiesa anche se dovesse trovare l'accordo col Barcellona e il Barcellona con la Juventus non si sa quando poi chiesa potrebbe essere tesserato in Liga e quindi quando potrebbe giocare e comunque comunque il Barcellona in questo momento non può offrire stipendi faraonici e quindi la proposta per chiesa sarebbe addirittura inferiore a quella all'ingaggio attuale fa la fine di Di Bala quando è andato alla Roma esatto quindi non so e che anche lì posso dire una cosa su Di Bala perché adesso c'è la narrazione ecco è rimasto non ha accettato i soldi come no allora raccontiamo come stanno le cose intanto la Roma non sta facendo sicuramente i salti di gioia perché questa mancata gestione blocca degli ingressi seconda cosa c'era una clausola rescissoria di Di Bala di circa 12 milioni di euro di questi 12 milioni di euro nonostante per la Roma quella clausola sia passata il 31 luglio Di Bala chiedeva una buonuscita di circa 8 milioni su 12 è ovvio che se la Roma lo avesse venduto a 12 13 milioni ne avrebbe incassato solo 5 perché gli altri 8 le avrebbe dovuto dare a Di Bala il tenero Di Bala che ragiona solo in base ai poveri tifosi vero? e quindi alla fine alla Roma non sarebbe non sarebbe entrato nulla praticamente quindi era una cessione follia e non si è fatta per questo i calciatori giustamente ragionano tutti con il loro portatoglio giustamente solo noi anche perché qualunque lavoratore Claudio quando cambia lavoro cambia azienda cerca di strappare le condizioni soltanto noi giornalisti possiamo permetterci di ragionare con il portafoglio non nostro ma degli altri quindi mandate dei regali a Mirko Nicolino esatto mandate mandate regali bianconeri ma possiamo dire che sei un mister di mezz'età un mister maturo un mister ancora giovane che mister sei no io ancora mi sento un mister giovane mi vedo mi vedo tanti anni ancora da allenatore ho capito tanti anni ti vedi a allenatore della nazionale quando non avrai 80 insomma è quella di capire ma sì quello è l'obiettivo finale quello è l'obiettivo finale di carriera Mirko grazie alla prossima alla prossima ciao a tutti grazie a tutti